Questa iniziativa è nata perché stiamo facendo un grande sforzo di avvicinamento della psicologia ai cittadini e dei cittadini alla psicologia. Noi stiamo lavorando su tutti i piani della comunicazione, quello degli smartphone è il nuovo traguardo della comunicazione che sta riscuotendo un successo meritato e straordinario. Noi volevamo che anche la psicologia stesse in questa posizione e siamo stati i primi ad ideare questa applicazione che si chiama Trova Psicologi. Questa iniziativa nasce dalla Campania come molte iniziative creative ma è naturalmente disponibile in italiano, quindi in tutta Italia ma anche all'estero per le persone di lingua italiana. Il futuro di questa applicazione sarà quello di trasformarsi in un social network per psicologi. È molto importante innanzitutto per lo strumento utilizzato di facile accessibilità e poi è importante perché in questo momento storico la figura dello psicologo è fondamentale. È fondamentale perché significa vicinanza alle persone, le persone che soffrono, capacità di interpretare bisogni, sofferenze ma anche speranze e desideri. Quindi è un'iniziativa importante. Noi come Comune appoggiamo, sosteniamo, sono venuto anche qui a salutare l'inizio di questa bella iniziativa. Grazie. Grazie.